Eppure ho un viso marcato, ho una forte personalità musicale, ho temperamento, non sono un nulla. Mio padre che faceva il liutaio mi mise nome Niccolò perché voleva che diventassi un grande violinista e mi affidò nelle mani di un maestro. Ma andò male. Somaro, deficiente, barassita! Sei negato per il violino! Se proprio vuoi fare il musicista potrai sonare al massimo le campane! Sì, le campane! Sono strumenti a corda anch'esse, no? Così cambiai maestro e strumento. Di fatti il violoncello lo sentivo di più, anche perché avevo le braccia lunghe. Bene, sì così, torre mi passo l'assitto. Ah, quel sì in quinta posizione, favoloso! Bene, bene il verso della gazzaladra. Eh, tu sei un ragazzo intelligente, sensibile. Vedrai, vedrai, te lo dico io che riuscirai.